Allora noi la prendiamo! No, che sono schiacciate io, che sono zanzane! Una volta abbiamo rubato un urso alla festa del paese, un urso, sì, un urso, però gigantesco. E con Marco com'è che siete rimasti amici? Una volta si è inventato una cosa, mi ha rimediato un bacio, forse per quello. Grazie a tutti, grazie a tutti. E quando ti stanchi di stare lassù, cambierai idea. Non cambierò mai idea, invece il mio fratello taglia. Ci farò vedere io appena scendi, e io non scenderò più. E manteni la parola, così mai la sono lì. Quante cose però che abbiamo già vissuto? Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.